È una bella opportunità, non facile, però contro una squadra che sta davanti a noi, quindi anche dobbiamo avere il desiderio di togliere dei punti. Certamente va interpretata bene perché è una squadra tosta, compatta, che va dal sodo, che ha fatto anche dei buoni risultati fuori casa, perché ha fatto fino adesso 5 vittorie e quindi non è facile. Però da parte nostra c'è la volontà di provare a chiuderla bene, di dare anche una smossa alla classifica, perché del resto è quello che conta di più. Uno dei lati positivi di questa società è che c'è sempre un confronto costruttivo, poi le scelte possono essere anche diverse perché è frutto di tante cose, però soprattutto anche per me che sono un attore, non dico le prime armi, ma quasi, sono tutti momenti anche di crescita. Poi dopo bisogna un attimino a staccare e ritornare a pensare alla partita, perché alla fine conta quello, conta la capacità di concentrarsi su quello e cercare di fare migliori modi. Ci sono un paio di infortunati di fare migliori modi. Grazie. Grazie.